buongiorno siamo qui con smeralda ciao elena ciao siamo subito il viaggio 5 4 3 2 allora vedo e lei e sono in montagna c'è una distesa di prati ci sono due sentieri c'è un bimbo e lei sta cercando di convincere questo bimbo a prendere un sentiero perché si è immobilizzato fermo e non si muove vuole muovere da lì tra i capricci batte i piedi strilla e lei gli dice dai vieni questo è il sentiero viene in questo sentiero qua e chi è questo bambino allora mi fa vedere rappresenta ma diciamo che è come se fosse diviso in due c'è due bambini in uno ok uno è un bambino di dove lavorava lei prima e l'altro è suo figlio ok smeralda deve presentarsi da sola quindi rifacciamo la scena si presenta smeralda per la sua sessione ok adesso è come se fossero lo stesso posto ma un po lontana centinaia di metri più lontana seduta su una panchina però si è dovuta mettere tipo dentro una cupola di vetro per non sentire i bambini ok si dà l'autorizzazione si causa esoterica di questo di questa tendenza per pensare agli altri e non a se stessi anche in eterico dice allora diciamo che mi sento in colpa e mi dispiace lasciare le persone da sole beh le vuole evolvere la sua anima si vuole si è come se fosse per forza trascinata lì ok e vuole assolutamente vedere come staccare questo questo risucchio questo gancio quando le persone tendenzialmente è quando le persone fanno la vittima no quindi fanno proprio la vittima direi no riassume bene tutti i comportamenti delle persone che lei tendenzialmente aiuta ok quindi se sono dei bambini è perché sono piccoli e innocenti se sono adulti e sono adulti che richiedono tanto richiedono nel senso si atteggiano in maniera tale da piangersi addosso ecco ok lei vuole evolvere quindi sì e vuole evolvere tagliando questo aggancio scolpiamolo nell'aria questa parola evolvere e in un pannello di legno che fluttua nell'aria con delle lettere di legno in un pannello con le lettere scavate nel legno nell'aria lettere di luce lettere di nuvole cosa vedi allora era come se fosse stato un pannello però era fatto di aria ma come se le scolpisse l'aria e quindi venivano fuori come se scolpendo venivano fuori delle nuvole a forma di lettere su questo rettangolo di aria ma prima regola per evolvere il miglior modo per evolvere anzi per non evolvere e dedicarsi solo agli altri questa è la prima zavorra la prima boa non la prima ancora la barca con un ancora ancorato al fondale non si muove e la barca e l'anima l'anima non si muove e quindi non evolve perché ci si occupa vanamente dell'evoluzione degli altri e non si ottiene né uno nell'altro risultato nel proprio evoluzione nell'evoluzione della persona in questione si perde del tempo si impara poco o niente essenzialmente si impara che ognuno decide per se lo si può aiutare se chiamandogliela lì chiedendo dandogli dei consigli ma la scelta anche di un bambino è del bambino e si possono dare delle regole una formazione dei paletti se fai questo è quello il premio quello che non si fa mai praticamente mai più oggi e saltano su non però proprio ieri professionisti del futuro che non sono professionisti ma sono bambini viziati incapaci capricciosi pieni di diritti e senza nessun dovere col telefonino in mano che ti parlano guardando il telefonino si è arrivata proprio un'immagine scusa collegata proprio al figlio in questo caso quindi diciamo trasformare la sua staticità in fatica nel senso che c'è ok tu stai lì sempre chiuso in casa ok se stai qua tu fai questo questo quest'altro fargli fare i lavori anche pesanti ok e questa è la tua scelta tu sei qua loro però vivi così perché se no vai da un'altra parte e questo potrebbe essere diciamo un aiuto per lei diciamo per smeralda per far sì che si sganci da questo da questo vederlo in pena mi viene da dire come immagine no e lui che comunque anche se rimane chiuso lì comunque in un certo dinamismo che può sbloccare il desiderio di non fare sempre queste cose obbligate è come se fosse quello che vedevo prima mergi arrivato lo dico perché mi è arrivato così quello che vedevo prima è come se lui volesse profondamente ricattare la mamma come se fosse in accordo con l'ex marito di smeralda in eterico va bene chiamiamo il figlio la figlia nel cinema l'ex marito padre del figlio il compagno di smeralda di smeralda oggi e l'amico di famiglia bene smeralda frequenza 25 miliardi consapevolezza 157 ps 41 vite precedenti 1384 cervello 9.3 smeralda è soggetta ad abduction allora sì quando riescono ti posso aggiungere nel senso che il tentativo è quasi giornaliero ma riescono una volta ogni mese e mezzo due diciamo che lei riesce ad essere lucida anche lì ma come se riuscissero camuffarla nel senso lei li confonde un po' con i suoi viaggi animici durante la notte ok perché in eterico è come se la prendessero da dietro e la sollevassero quindi a volte appare un po' come quando lei gira in autonomia ok che è come se vedesse tutto dall'alto ma è trascinata da dietro dalla schiena poi non è lucida quindi non riescono a fare delle cose così profonde ok però è come se riuscissero a tirare a prendere dei dati e archiviarli quello riescono a farlo quante al mese adesso va neanche tutti i mesi fra ogni mese e mezzo due più o meno la vibrazione di stefan di smeralda di smeralda quando ha fatto non tanto tempo fa una sessione diretta con me con il tuo livello di visione si si 149 miliardi alla fine ma no all'inizio quando è iniziata quando è entrata quando è riuscita a visualizzare quando entrata in ipnosi 149 miliardi alla fine allora non è riuscita a salire tanto di vibrazioni perché entrava questa interferenza mentale che le dicevano non riesci e la tirava giù quindi lei magari andava su poi la tirava giù la continua a confonderla ed è arrivata a 216 miliardi e tanto ma quando è partita quando mi raccontava i punti e quanto stava no 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 ci raccontava i punti 37 miliardi e comunque tanto ed è di più di quanto è oggi cause esoterica della sua frequenza quindi molto bassa adesso entità mentali entità mentali che le dicono tu non sei capace tu non sei in grado vediamole allora c'è questa qua che di livello 7 che si chiama sentenza 7 sentenza è proprio la allora la mano si vede una mano con il martelletto quello del tribunale ok e sulla mano si vede un pezzettino di toga da giudice e c'è questa mano che va sul martelletto che a volte corrisponde anche alla sua testa diciamo il piano doveva il martelletto a volte il martelletto nova proprio sulla testa così di smeralda ed è corrisponde al senso di colpa e all'abbandono quindi il giudizio di abbandonare e che poi di conseguenza provoca il senso di colpa 7 poi c'è quattro che sordina è come se ci fosse sempre qualcuno è come se c'è questa figura di donna capelli grigi che le dice abbassa la voce non farti sentire non puoi farti sentire che proprio le dice la sua autostima no corrisponde la sua autostima abbassa la sua autostima nel senso tu non puoi mai diritto di farti sentire così abbassa la voce che disturbi e poi ce n'è uno di livello 3 che come possiamo chiamarla dire confusione però è gioco delle tre carte ecco l'inganno si inganno pensi che la risposta sia quella invece un'altra esa e verdi sì esattamente entità eteriche c'è questa aspetta che cioè qua mi senti sì 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 ok avevo l'eco allora c'è questa figura femminile con un vestito viola i capelli tipo neri raccolti che però mi dice cioè mi dice vedo che è collegata a medusa secondo universo un po c'è un leone un leone che però sulla coda al posto del effetto del ciuffo che in cima alla coda c'è una che la come da scorpione primo secondo universo principalmente primo è come se a volte intervenisse per il secondo né dagli inferi poi poi c'è questo lucertolone grosso quindi un rettiloide con due teste uguali allora sono due teste sono due teste perché ha due occhi due occhi la bocca e due nasi ma è come se fosse una testa divisa in due di speculare ma con due occhi e due nasi cioè quattro occhi se c'è due 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 facce appiccicate due mesi sì ecco esatto perché alla bocca è unita alla bocca cioè c'è solo metà di qua e metà di qua altrove se ci sono due grigi è un uomo del tempo e dl 3 ok la volta scorsa lei ha visto una mosca meccanica che le faceva molto paura mi sembra molto paura e le veniva in faccia proprio sì direi che la l leone che lei appariva così perché riusciva a far paura così a me non mi è apparsa perché perché la leone sì esatto nel senso la mosca so come dire nel senso a me la mosca non fa non dice niente e quindi mi è apparso direttamente il leone impianti allora ce n'è uno mentale che è un casco un casco con tanti fili all'interno è un casco all'interno della testa e verso l'interno del casco ci sono tanti collegamenti di fili che si collegano a tutti i suoi pensieri e questa mentale e teori che c'è questo tubo all'interno della colonna vertebrale in cui fanno passare questa sostanza che attiva tutti i suoi sintomi e notturni diciamo che lo scopo è a volte anche di giorno ma principalmente lo attivano di notte appunto provocare i sintomi per far sì che lei si allontani dalla sua capacità di creare con la sua ps di notte è un tentativo di cercare di fare più abduction possibili distraendolo abbassando le vibrazioni basta che si è proprio un tubo con c'è se quando si attiva appare una luce azzurra causa esoterica dei problemi il dolore di notte a lombari piedi braccia se questo canale qua questo tubo qua all'interno della colonna agisce proprio sulle terminazioni nervose dando degli impulsi di dolore di blocco impianto tecnico lei si alza dal letto stanca fa diciamo dei piccoli movimenti per recuperare la circolazione che inizia la giornata le dispiace perdere la notte secondo una sua convinzione dei suoi studi di notte noi ci evolviamo facciamo viaggete viaggi estrali e andiamo di qua andiamo di là questo sonno disturbato li impedisce o li annienta nel questo caso è così allora diciamo che disturbare il suo sonno a due scopi primo che avviene distratta di notte tra virgolette per cercare di farle delle per farle le abduction quindi cercare di farla essere meno vigile possibile e secondo riposando male anche di giorno hanno più possibilità che lei molli la presa tra virgolette no e quindi che stia meno attenta a recepire i segnali durante il giorno e a seguire diciamo la sua direzione che tendenzialmente ultimamente sta facendo parecchio anche se forse non si è ancora resa conto ma è come se la sua ps ultima me negli ultimi sei mesi e da dire si sta collegando molto facilmente alla all'esterno anche no quindi smeralda è molto spesso molto centrata e fa spesso quello che serve che che va nella direzione del suo benessere e della sua evoluzione quindi la strategia di disturbarle il sonno e di non farla riposare bene agisce anche durante per il giorno e non solo durante la notte ok uno degli ultimi punti quasi in un punto raccontato ci così la sua fine è il più importante paura fobia dell'acqua causa esoterica tutto impianti entità e convinzioni entità mentali e vite precedenti allora è collegato in questa vita è collegato a medusa quindi è come un con questi tentacoli come se dall'acqua le potesse essere risucchiata negli inferi sotto l'acqua medusa fa sì che oltre a impedirle di avere un contatto profondo con l'acqua ha proprio questo legame con con questa energia bassa che vibra basso bisogna dire inferi della inferi proprio no del profondo dei mari inferi marini con questo oscurità e carico di tutta l'acqua di tutto il peso dei mari degli oceani no che ci può essere la sotto proprio come se fosse un risucchio che la porta giù quindi quando smeralda vibra basso medusa riesce a tenerla ancora più in basso ed è legata anche all'acqua come se una cosa che diciamo nella matrix medusa riesce a fare su smeralda e impedirle di avere un contatto profondo con l'acqua perché lei riceverebbe tutto ciò che tutte le informazioni profonde che l'acqua dà e si accorgerà perché non c'è nessun pericolo e quindi successerebbe di esistere quali sono i messaggi dell'acqua allora l'armonizzazione delle vibrazioni cellulari come è proprio un messaggio di io lo vedo a livello proprio molecolare ok dall'acqua entra questa informazione che è la forma di la parola l'esagono quello perfetto l'esagono quelli c'è letta con frattale ok allora l'acqua manda dentro ogni cellula del corpo l'informazione del frattale ok e questo fa sì che si ria armonizzino tutte le cellule questa è una delle informazioni e come un'altra cosa che fa e vedo in eterico in questo momento è come se aprisse tutti i canali alle infinite informazioni che si possono ricevere di come funziona tutto ok quindi apre l'accesso a qualsiasi cosa se ognuno di noi coglie quell'istante può arrivare a conoscere qualsiasi cosa ok apriamo una linea temporale dove smeralda si è messa sotto ha iniziato tranquilla a vincere la paura dell'acqua di mare lei che vive in una località di mare peraltro anche molto bella si è messa sotto poi è andata da dei professionisti ha fatto un corso di nuoto insomma adesso nuota come la figlia in questa linea temporale smeralda va ogni mattina presto una nuotata da sola dopo la decima nuotata in questo senso quanto vibra allora parte con una vibrazione di 110 miliardi prima del bagno si dopo dopo una decina di giorni di bagno parte la giornata esatto e dopo il bagno quanto sta dopo la nuotata non il bagno allora è crescente diciamo al decimo giorno allora dopo il primo bagno è a 107 dopo il decimo bagno a 250 miliardi ok lei continua si compra una muta si attrezza nuota quasi tutti i giorni in mare tutto l'anno 12 mesi vabbè se c'è la tempesta no onde alte no ma quando il mare lo permette un 300 giorni all'anno su 365 riesce a farlo alla dopo un anno a quanto vibra mediamente ovviamente quindi durante la vita di tutti i giorni diciamo sì o dopo il trecentesimo bagno in un anno dopo il trecentesimo bagno è arrivata a 380 miliardi questo è il percorso lavorare su se stessi poi i figli vedranno che la mamma fa quello che sta facendo e ne traggono forte beneficio questo è il lavoro davanti a questo questa linea temporale cosa fa il figlio si accorge di essere stato scoperto e quindi la sua strategia di ricatto non è più valida ma è come se lui fosse stato ipnotizzato tra virgolette no quindi ha scelto di essere trascinato in questo gioco di ricatto e tutto ad un colpo si sveglia e si rende conto che l'unica persona che ci rimette a fare questo gioco è lui se stesso e quindi con un po di fatica vedo non è così ma con un po di fatica inizia a pensare a cosa fare fa fatica perché ora deve riprendere un po tutti i suoi processi e quindi lavorare su sé per andare contro le sue i suoi timori e la sua bassa autostima ma inizia a pensare che cosa quali sono gli obiettivi da raggiungere ecco quindi pian piano si avvia in quella direzione vabbè smeralda adesso si crea un quaderno con cento pagine inizia a scrivere nella prima pagina se vuole io imparo a nuotare beh quando vorrà durante la sessione mi dici se va a scrivere io imparo a nuotare anche nella seconda terza quarta quinta insomma che punto sta o se la lascia lo lascia in bianco tranne la prima pagina ma va bene chiamiamo tutti i disincarnati della vita di smeralda di tutte le generazioni portale aureo e siccome lei si è interessata agli studi di steiner chiama anche steiner come arriva arriva tipo quasi volando no ma lì a si ferma a questo temperamento è molto sicuro e arriva ripetendo questi tre numeri 7 14 21 perché sono l'età di cambiamento sono gli anni in cui ci sono i cambiamenti evolutivi nei bambini nell'adolescente dice così sì secondo me poteva essere valido un secolo fa adesso sono un po variate l'età ecco una cosa si piete 7 14 21 perché su questo lui molto rigido come se volesse non fosse tanto morbido nel valutare un'evoluzione diversa in questo momento ha scoperto una cosa nella mia vita anche contro il mio lamento del mio carattere perché non esistono regole precise esiste sempre un probabilmente io andrei in quella direzione non è così tendenzia un'indicazione andiamo a vedere intorno a quegli anni se no ecco quello può essere androno 7 14 21 28 sì ci sta magari però che nel ecco chi è che lo provoca adesso si lui è infatti sì c'è tutto quello che già prima lo vedevo è vabbè 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 insomma steiner ps o no aveva iniziato con una forte ps molto a si è fatto trascinare e dopo era metà ora dov'è dice ai piani alti con i saggi sì ma dov'è perché dov'è sì sì ti dico vengono niente a dire vengono segregati quelli che a cui viene fatto credere che sono saggi e sono in questo posto sono sempre c'è sono interferiti no ok da un certo tipo di interferenza che li tiene in questo posto in questo come se fosse un terrazzo ti posso di tipo un balcone sai tipo i nei teatri dove ci sono le balconate sopra quelli circolari no ecco come se fosse un balcone così ampio e da cui quelli a cui viene fatto credere di esser saggi vengono messi lì e che di fare e guardano di sotto sempre per mantenerli in questo questa interferenza di superego per mantenere la loro energia vuole andare nel portale aureo aspetta che chiedo è finita la proposta è finita lo salutiamo quanti e quali parenti di smeralda di tutte le generazioni accorrono a questo invito 235 scusa un bel vaffanculo a steiner io lo manderei perché aspetta che chiedo è proprio vado a chiedere ai suoi capi quanti sistemi 235 ok chi spicca è non ungherese cosa le dice le mostra una danza tipica è vestito con l'abito tipico dei balli che fanno in ungheria quelli tipici e sta facendo per la danza lì dice vai a cercare quel particolare della della cultura ungherese che nel profondo a te piace tanto anche se ancora non l'hai riconosciuto non l'hai non riconosciuta non l'hai vista non l'hai colta colta e smeralda i tuoi sono vivi o morti mamma e tutti e due ok chiamali vengono a braccetto vengono avanti a braccetto e mi fa vedere dice però noi abbiamo da fare perché stavano tipo mettendo del come se pinzassero delle di bigliettini di carta con dei numeri su alcuni abiti come se fossero in una fabbrica di tessuti di abiti e dovessero mettere tipo delle etichette su ogni abito cosa dice la madre a smeralda si è stata in gamba anche se ci sei mancata cosa dice il padre il padre è indeciso se è molto vorrebbe stare con smeralda ma sa che deve tornare la lavorare la picca anche al padre sono stato poco presente a livello affettivo convinto che quello che io dovevo darvi era altro rispetto all'affetto è come se quello che doveva lavorare per mantenerli e quindi anche quando c'era era sempre con i pensieri al lavoro a come a come fare per dargli di più la picca cosa vuole dire sono molto orgoglioso di come tu hai di quello che tu hai fatto nella tua vita del coraggio che tu hai avuto a muoverti in una direzione diversa da quella prevista sono molto orgoglioso ti voglio bene il meccata cosa fa si abbracciano allora c'è sì sì praticamente si uniscono i colori delle due ps che sono su tutto il loro corpo quindi smeralda è più un viola scuro tutta lui è tipo blu chiaro e quando si abbracciano forte e diventa un viola blu che è una via di mezzo tra i due colori esce questa luce di questo colore ok questo è il padre e la madre già convict se quindi con poche caratteristiche della vita appena scorsa ma con le caratteristiche pulite della della propria anima va bene li salutiamo tutti abbiamo ancora un bel po da fare chiudiamo il portale aureo vita precedente in cui si annida la paura la fobia del dell'acqua cioè si è morta annegata in un fiume risucchiata da un mulinello donna uomo era una ragazzina di 15 anni dove mi sembra germania un po più su della foresta nera nome catrina ok e poi che è successo la fobia se la porta dietro da quella vita allora non in tutte le vite successive ma come se in alcune vite le ha deciso di agganciarsi a questa energia che è quella della medusa quindi vedo che in quella vita la e in altre questa qui e poi uno e mezzo lei ha permesso alla interferenza medusa di agganciarla e nella vita e mezzo se non si è ripresentata ora perché nell'altra vita in mezzo lei proprio non si è mai avvicinata all'acqua e invece in questa vita la ps ha deciso di rifare l'esperienza per superarla per questo si è avvicinata all'acqua ora causa esoterica dei debiti allora c'è la serpente a due teste scusa la lucertola due teste insieme a un'interferenza del compagno mi fa vedere che è come se fosse come se lei si fosse aspetta però spiegarlo la punizione per la scelta che sta portando avanti lei pensa di dover essere punita perché fuori legge sì ma i debiti da dove vengono dalla storia del compagno allora diciamo che è così il compagno ok che non è stato bene quindi poi atteggiamento di vittima anche se non è palese ma diciamo che profondamente il senso è quello ok io non posso fare delle cose quindi devo per forza essere aiutato non posso essere abbandonato quindi ok io ci sto vicina di ciò che mi prendo cura io di te ok e intanto sono fuori legge per diciamo vivere cerca di vivere ok ma se sono fuori legge devo essere punita e quindi chiede e crea debiti c'è la fiamma nella vita di smeralda ma anima di quasi quinto livello anima fine di quasi di quinto livello potenzialmente potrebbe diventare fiamma ma la conosce già si non è compagno o è compagno però dovrebbe fare un grosso lavoro e tante scelte bene nel suo lavoro vuole portare avanti un progetto con dei ragazzi quali fondamenti diciamo di successo quali energia a questo progetto ok lei è un bivio rispetto a questo progetto se lei lo intraprende con l'obiettivo che ci ha raccontato prima va sempre nell'aggancio di dover aiutare gli altri fare qualcosa per gli altri per la società e non funzionerebbe se funzionerebbe ma con tanta fatica troppe variabili troppe variabili ma per il senso che gli dà cioè farlo per aiutare i ragazzi a non stare sul telefono almeno un'ora e mezza la settimana ma è un'idea molto creativa molto bella molto alternativa e diversa dal solito da quello che propongono tutti quindi mettere la sua passione a contatto con i giovani con cui lei ci sta bene e ci gioca bene ok allora questo sarebbe per lei tanta 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 roba la sua creatività lì si espanderebbe ai ragazzi che seguirebbero il suo corso è come se mentre lei lavora il legno trasmette agli altri quello che fa ai ragazzi però l'obiettivo non deve essere voglio pensare a voi per tirarvi fuori da una situazione ma faccio una cosa bella chi vuole farlo esatto metto insieme le due cose che mi appassionano che mi fanno stare bene e la propongo a chiunque voglia magari usati quelli tali dei mezzi di di advertising di pubblicità di questo corso moderni giovani quindi in modo da attirare le persone in questo senso con dei bei video interessanti di lavori che si possono fare questo quello che ha fatto gina 13 anni si è esatto mia figlia nome della figlia 14 anni 15 anni magari anche proporlo nelle scuole se che ogni tanto fanno quei laboratori creativi potrebbe essere questo l'obiettivo infatti esatto per far soldi per comprare borse di lusso e infarsi passeggiate con borse di lusso assolutamente no questo non è proprio nell'interesse proprio di evolversi e frega niente borse di lusso non gli interessa proprio niente cambia il colore dei capelli tutti i giorni oggi viola mani verdi no quindi l'intento è quello di fare una cosa bella potrebbero anche aderire 3 4 ragazze basta sì sì sarebbe un successo beh mi è arrivato il figlio lei potrebbe proporre di essere aiutata dal figlio a organizzare questa cosa quasi come ribaltare la situazione no non il figlio che chiede aiuto a lei ma lei che chiede aiuto al figlio potrebbe essere un buono spunto ok qual è il progetto secondario della vita di smeralda rispetto all'anima del figlio diciamo che la prova che gli ha messo la sua ps davanti è proprio quella più radicata perché chi quale persona più importante di un figlio da aiutare cioè gli ha messo proprio davanti un figlio che finge di aver bisogno ok per la sua scelta di essere di apparire vittima no che non riesce a fare nulla senza da mamma e quale persona più importante nella vita di una mamma se non quella di un figlio ok quindi la persona più difficile da cui distaccarsi la tiene incastrata lì e questa è la prova che la sua ps si è data che per superare appunto questo questo suo questa sua tendenza a dover sempre aiutare gli altri questo aggancio dei sensi di colpa e del giudizio e il figlio invece la ps del figlio a si incastra con questa cosa per scegliere il sacrificio della staticità e dell'immobilità per vedere dice l'effetto che fa mi fa vedere una una vita dove erano marito e moglie e avevano lui marito le moglie si avevano questo mulino e li vieto che spostano le scorte dell'anno prima che avevano messo nel sottotetto del molino le scorte di grano che avevano riservato dall'anno precedente le spostano da lì e le portano le devono portare al piano di sotto per caricare il carro e poi andare a venderle al mercato e lui dice a lei che è un po stanco per diciamo la l'atteggiamento che a lei di questa profonda depressione perché non non sono riusciti ad avere figli come si conclude questa esperienza e si conclude che lei entra ancora più in depressione e non fa più nulla e lui si trova al carico di questa moglie c'è una bloccata che non fa nulla va bene il titolo di questa sessione sarà evolvere cosa ne pensa il figlio e cosa vuole dire la sua anima alla madre allora la sua anima vuole dire la madre forse ho capito il senso di questa esperienza la ps ce la aspetta perché la ps la ps lo dice c'è il figlio lo percepisce della sua ps lui lo dice alla mamma ok quindi c'è solo una c'è solo ancora una separazione una non chiarezza e confusione tra la ps del figlio e il figlio diciamo la parte mentale no che ha percepito che gli è arrivato il senso ma non ha non gli è chiaro come muoversi quindi si vede più apertura e luce ma deve ancora trovare la strada nella matrix la figlia quanti ecco allora la figlia la peto è molto solare sa divertirsi le piace divertirsi e molto invece molto attiva rispetto al al figlio è molto mette molto alla prova smeralda la affronta molto e la contesta molto la contesta se sono non è che giudica la mamma ma mette spesso protesta spesso diciamo la vedo molto che spinge molto per andare da sola verso il mondo in maniera contrastante ma ecco sento molto questa cosa cosa vuole dire il compagno mi sento apatico non vedo la via di movimento va bene andiamo al cluster questa volta abbiamo già fatto un piccolo lavoro con smeralda l'altra volta questa volta andiamo con la come dire potenza della tua visione se una parte la vedo ripulita quindi una parte lei è riuscita a già farla in maniera efficace è come se la sua ps non le abbia fatto vedere un altro livello come se avesse tolto diciamo questi fossero dei piani lei ha pulito il primo piano e quelli sotto no ecco però è riuscita a farlo questo per dire che è in grado di farlo quindi da oggi poi può farlo da sola tranquillamente come li vedi contratti sono ecco sono sei quelle tipo tipo piante grasse piccoline messe su piccole mesole alla parete un po sparse li teniamo no butta sia butta ma che sta buttando tutto qualche spirito perché glielo diciamo noi o perché ha preso il treno di evolvere se si deve come se si è proprio convinta con la forza di dire ok via facciamo spazio che qui adesso ci si diverte cosa crea al posto di vincoli utili all'evoluzione ma sempre vincoli ha creato un cuore di legno e dentro al cuore di legno c'è una sfera d'argento e dalla sfera d'argento attraverso il cuore di legno esce tutta l'energia e la sua vibrazione massima cluster a metà la stessa è come se fosse monco gli manca un braccio una gamba e un orecchio e sono le parti che smeralta è riuscita a togliere l'ultima volta ok cosa sapendo portare definitivo e butta tutto il resto dentro il portale definitivo adesso qui ha fatto un sole di legno con dentro la sfera d'argento ok medusa leone scorpione lucertola due teste un uomo del tempo origine non li considero neanche 3 dl entità mentale sentenza entità mentale tre carte sordina sì ok e sordina ci sono ancora no le abduction e gli impianti ci sono ancora no il senso di colpa e abbandono c'è ancora no la ps diciamo no al suo corpo emozionale si è accorto che c'è dello spazio libero da diffondere con le emozioni che vivrano alto e pian piano si stanno espandendo il desiderio genuino e profondo di risolvere l'handicap dell'acqua e del mare è nato sì allora ci sono tutte le pagine scritte fino a metà poi da metà ha disegnato su ogni pagina lei che allora primo disegno è lei che mette un piede nell'acqua il secco la seconda pagina dopo mette fino alle ginocchia la pagina dopo fino qua ok fino arrivare in fondo alla centesima pagina che lei sott'acqua con le bolle e una luce che si espande ok messaggio di lei a lui e di lui a lei all'amico quinta gemella e tempo di giocare il nostro gioco lui a lei e lei a lui sono pronta sistemo tutto e ci sono è fondamentale che lei non perda di vista mai che si ricordi sempre di questo obiettivo perché tenteranno in tutti i modi di riportarla al senso di colpa del giudizio o del poverino se faccio quello chissà poverino quello quell'altro quella la le conseguenze ma il titolo di questa sessione qual è evolve ipotizziamo una linea temporale in cui questo avviene tra i x anni un anno due anni smeralda ha trasformato questa persona nella fiamma cosa fa il figlio tra due anni per fatti suoi quanto è probabile che faccia un certo tipo di allora l'immagine che mi è arrivato del figlio fra due anni e lo vedo con uno zaino con uno zaino in spalla che cammina da solo penso in un viaggio poi c'è tra due anni ci sono spera alta e la fiamma ok e li vedo forti quindi che creano una struttura forte ok dove diciamo in maniera molto secondaria sostengono anche il compagno di smeralda ma non ce lo sostengono quando ha bisogno magari di un aiuto pratico no ok non però ha la sua vita la vita abbastanza normale piatta ma ce l'ha e invece loro sono una struttura molto li vedo molto solidi che hanno una vita molto creativa e l'attuale compagno l'attuale compagno allora fra due anni è come se pian piano si ricostruisse un po la sua essere da solo come se non avesse mai imparato a stare da solo non lo so non so la storia ma come si imparasse adesso a vivere da solo ecco poi c'è la figlia che sta spesso con lui vedo perché le fa piacere anche con loro ma spesso anche col papà allora diciamo che la morale non è dovete fare quello che diciamo noi morale che non sceglie quello che vuole se la sensazione di smeradda è quella di volersi evolvere la fiamma è la massima sfida con il massimo impegno ah è tutto facile no no massimo impegno cazzi amari quello che possiamo dire è non che a questo è quello che succederà perché abbiamo la la boccia di cristallo ma sono linee temporali probabili che una visione in eterico allenata come quella di elena vede non che sarà così perché siamo i maghi no questa è una linea temporale visibile delineate tratteggiate in una maniera abbastanza chiara quello che io posso dire per l'ennesima volta a smeralda è che sì siamo tutti collegati quindi una madre figli ai compagni gli ex mariti ai genitori però siamo qui per noi e la direzione che noi prendiamo in virtù di questo concetto sacro e non egoistico come potrebbe sembrare a una lettura superficiale genera delle conseguenze sempre 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 positive verso chi abbiamo intorno e contrario invece all'opposto quindi continuare ha toccato a a sentire necessità di stare dietro a un figlio per esempio chi ha delle difficoltà ignorando calpestando la propria evoluzione porta comunque in qualche modo a un non aiuto al figlio quindi non mi stupisco che in uno degli infiniti futuri nel quale una smeralda che ha oggi fatto un ottimo lavoro di pulizia e prende la sua strada smeralda prende la sua strada il figlio prende la sua spalla il massimo della dell'uscita dal guscio quando tornerà da quel viaggio zaino spalla il figlio sarà irriconoscibile avrà passato due fasi in una in un viaggio da ragazzino bambinello e giovinetto diventerà quasi uomo in un viaggio del genere torna la mamma non lo riconosce ovviamente possibile anche se la mamma sta tutti i giorni dirgli esci di casa esci di casa e sci di casa può essere anche questo ma 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 questo è un futuro possibile bene hai parlato di gioco smeralda voleva una messaggio da parte della sua ps circa il tema gioco ma in generale diamo le un messaggio fai tutto per vedere l'effetto che fa frequenza di smeralda 398 miliardi consapevolezza 207 ps 69 vite 1051 cervello capacità mediani che questo momento è 10.3 ok un solo messaggio finale il messaggio del mare che ha davanti casa a lei tieni a unirti alla mia profonda luce grazie disconnetti ti da tutto tutti e torniamo